Ciao ragazzi, sono Lela Cortesi, la cantante dei Naga, oggi sono stata qui con Pietro Lapietra per un seminario bellissimo che ho fatto sulla chitarra degli arrangiamenti. È stato un piacere conoscere chi c'era, mi farà molto piacere nel nostro percorso musicale magari di incontrare anche voi, è stata un'esperienza bellissima, una scuola ottima, quindi mi raccomando, sfruttatela al 100% e andate avanti tutta dritta verso la musica. Ciao a tutti!